Cos'è la passeggiata del cuore? È un evento organizzato dalla Misericordia di Mazzara del Vallo insieme a tantissime altre associazioni sportive e il mondo del volontariato tutto affinché ci sia una raccolta fondi per l'acquisto dei defibrillatori da donare all'intera città di Mazzara del Vallo per tutta la collettività Verrà fatta per tutte le vie del centro storico e quindi vedremo tutti i vicoli, le ceramiche e poi si concluderà a Piazza Regina con la prima installazione di un defibrillatore il primo che verrà installato domani sera stesso Piazza Regina ci piace sottolineare che è stato donato dalla geletteria Diadema che ha predisposto anche l'abilitazione di alcuni operatori e verrà fatto con tutte le autorità politiche che l'amministrazione ci renderà il piacere di partecipare